Sarà una giornata importante quella di domenica perché addirittura una prima mondiale parliamo di Dante, come ne parliamo? Dante, come diceva Borges, non c'è una lettura, ci sono tantissime letture perché viene considerato Dante un oceano. Domenica che cosa vedremo? Domenica vedremo Dante sulla bocca di tutti. Poi Inferno 1911 che è restaurato dalla Cineteca di Bologna, quindi un gioiello. Vediamo questo capolavoro del mutuo, quindi è un primo lavoro molto importante di ordine mondiale, c'è la versione italiana di Inferno 1911. C'era da rendere vivo musicalmente come voce questo mutuo, come avete fatto? Sono state scritte queste musiche apposta per rendere vivo e sottolineare i punti più importanti di questo film mutuo tramite la voce perché l'inferno non poteva essere che rappresentato da melodie e da voci. E quindi ha dato veramente grande stimolo a tutti i coristi del coro voce e incanto proprio per dire nonostante tutto riusciamo a lavorare, a fare e a fare belle cose insieme. Il Lion è dietro questa iniziativa per una finalità che è veramente particolare. Noi vogliamo finanziare con questa opera, quindi con il ricavato di quest'opera, l'addestramento di un cane nella fattispecie un pastore tedesco che verrà addestrato da un addestratore veramente incredibile, bravissimo, che si chiama Mirko Bracaloni e verrà addestrato a avvertire una persona che non è sensibile ai farmaci e che è affetta da epilessia viene avvertita prima in modo che possa essere protetta, messa in sicurezza per non avere problemi durante le crisi.